Ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che ha già male, a una rivolta senza anni, perché di tutto ne sappiamo, che se d'umore per tre giorni poi risorge, in ciò che noi crediamo, Dio è risolto, in ciò che noi vogliamo, Dio è risolto, nel mondo che faremo, Dio è risolto. E che ci giunga un giorno ancora la notizia, Dio è una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia. Stiamo a casa, ce la faremo.